Ciao cari lettori del Balassinese, da qui potete vedere la furia dell'acqua, oggi in questa domenica dopo il disastro di Genova e delle Cinque Terre, anche in terra comasca del triangolo ariano ad Asso, Asso Cancio, si preannuncia un potenziale nubifragio, quindi guardate la potenza dell'acqua come scende, quindi autorità intervenite, dobbiamo imparare a deleggere anche coloro che tutelano il nostro territorio, se no bisogna mandarli a casa. Ciao dal Centro Ricerche Balassinesi con questa bella caduta d'acqua e la cascata Vallatene.